Ciao e benvenuto o benvenuta all'interno di questo nuovo video. Oggi sono qui con Costanza, una nostra studentessa della Booster Academy, in particolare del coaching program, quindi del percorso intensivo con le nostre coach certificate, che ci racconterà un po' quella che è stata la sua esperienza all'interno dell'Academy e appunto come ha vissuto questo suo percorso. Intanto, ciao Co. Ciao Giulia, ciao a tutti. Ciao e ti va di raccontarci un attimino chi sei, cosa fai intanto? Certamente. Allora, io sono Costanza Casoni, sono un ottico optometrista e dopo aver lavorato per diversi anni come dipendente ho sentito, in realtà l'ho sentito da sempre, ma non era ancora il momento, diciamo, che fosse appunto il momento di occuparmi proprio, avere uno spazio tutto mio e aprire una mia attività nella quale poter mettere proprio a frutto, oltre l'esperienza, tutte, diciamo, le skills apprese negli anni grazie ai vari corsi di aggiornamento. e quindi a giugno dello scorso anno, esattamente il 2 giugno del 2022, ho realizzato il mio sogno e ho aperto la mia attività. Ovviamente, essendo giovani, essendo molto attenta ai vari stimoli sotto tutti i punti di vista, diciamo, anche per quanto riguarda quello dei social, il mio obiettivo era, cioè la mia idea, diciamo, era proprio quella di avere, fare dei contenuti di un certo tipo, diciamo, e quindi dare una presentazione online che fosse allineata ai servizi che do offline. Quindi professionali, ovviamente. Professionali, ma, diciamo, volevo trovare proprio il modo di comunicare al meglio quello che faccio nel mio negozio, perché di cose comunque ne faccio tante e questo, diciamo, era un po' il mio obiettivo. E quindi, poi, insomma, ti sei approcciata all'interno della Booster Academy che, diciamo, in quale situazione eri? Cioè, avevi difficoltà a comunicarlo sui social oppure era più magari un problema tecnico? Allora, sentivo che mi mancavano sia le nozioni grafiche, sia una strategia. Proprio qualcuno che mi dicesse, tramite, appunto, come posso dire, legami pratici, cioè nel senso non improvvisati, cioè avere proprio il protocollo, come per le altre, diciamo, sezioni, anche per i social. Quindi, quando ho visto poi il tuo video, e, ripeto, ne vediamo tantissimi online, quindi ovviamente siamo bombardati tutti i giorni, il tuo mi ha proprio particolarmente colpito e quando ho finito di guardarlo, poi ho richiesto questa call. Quindi il mio obiettivo era, cioè il mio dubbio a un anno di attività era sì, sto facendo dei contenuti, ma già ho poco tempo, quindi magari sto sprecando, tra virgolette, il tempo e non lo sto ottimizzando perché non lo sto facendo nella maniera che porta risultati. Che faccio? Assumo una social media manager? Lì il mio dubbio era, perché avevo avuto un'esperienza iniziale con questa figura, il mio dubbio era, ok, assumo una social media manager e poi devo dirle io cosa deve pubblicare, perché comunque sono io l'esperta del mio settore. E quindi diciamo che è arrivata nel momento giusto questa... Quindi diciamo, stavi un po' in un limbo del delego, però effettivamente anche se delego non so cosa andare a far delegare, perché poi c'è anche quello, oppure magari si dovrebbe incrociare le dita e sperare che effettivamente quella persona a cui tu deleghi sia effettivamente in grado di avere delle strategie di marketing, eccetera, però non è proprio cosa molto facile da fare. Oppure mi metto io e cerco di capire un attimino, ok, e prima di entrare, diciamo, qual era il tuo rapporto con Instagram? Pubblicavi? Come ti andavano i contenuti, i post? C'era un qualcosa su cui eri più ferrata, fra virgolette, oppure partivi proprio da zero? Diciamo che di ferrato, tra virgolette, c'era la mia creatività. E poi quando, nel senso che sapevo utilizzare i social, ma quello magari che potevo fare per la mia pagina personale, ok, quindi non c'era dietro una strategia, quindi che ne so, faccio l'esempio, quello su cui proprio adesso ho capito che sbagliavo. nei reel, cioè magari mettevo inizialmente i primi 4-5 secondi, immagini che mi mandavano le aziende di occhiali, non io che parlavo, non la segancio iniziale, magari che potesse catturare l'attenzione e far rimanere, diciamo, atto, chi accadde davanti il link, diciamo. Quindi provavi con dei contenuti, ma a livello strategico, cioè ti mancava proprio la base strategica su cui dire, ok, cioè si fa così e utilizzo la mia creatività, su cui già sono brava, però con una strategia che faccia da contorno, no? Sia la strategia nella pubblicazione, sia la parte grafica, sia il sapere come funziona l'algoritmo di Instagram. Quindi diciamo che questo corso mi ha molto aiutato per questi tre fattori che non sono da sottovalutare, bensì il contrario, cioè appunto ti dà delle nozioni grafiche, sulla grafica, molto dettagliate, quindi nulla è lasciato al caso, e su come funziona Instagram, che anche quello è molto importante, ma soprattutto voglio puntare l'attenzione, voglio porre l'attenzione sulla parte della strategia marketing, perché per esempio, io ho otto, nove anni di esperienza, lavoravo anche in un negozio che ci faceva fare molti corsi di formazione, purtroppo quello marketing o manca, o se c'è veramente... Sì, sì, sì. E il bello sai qual è? Che sono tutti esperti di marketing. Te lo giuro. E questa cosa mi fa troppo ridere, perché poi quando tu ci vai a parlare, in realtà capisci che, sì, ok, sei un esperto di marketing, c'è, però poi le vendite, cioè qual è la tua esperienza concreta sul lato marketing, e non c'è. E quindi sta roba mi fa veramente, mi fa morire. Però sì, effettivamente sì, ed è stato creato appunto con quel taglio lì, appositamente per quello, perché appunto c'è tanto bisogno, e poi è una cosa che spesso si confonde con la visibilità e altre storie diverse, quando in realtà non è propriamente così. Cioè, noi dobbiamo prima capire come funziona il tutto, lato strategia, lato marketing, e poi dopo al massimo preoccuparci di visibilità che possono essere con l'advertising, con delle strategie in organico, eccetera. Però di base c'è imparare a creare delle strutture di marketing, imparare a vendere, al di là di quanti follower puoi avere all'interno del tuo profilo, no? E a proposito di questo, qual è stata la tua esperienza con la vendita? Allora, diciamo che una volta che ho iniziato a fare dei contenuti più strutturati, ho avuto diversi contatti, che poi non tutti ovviamente immediatamente si vanno a trasformare in vendita, però c'è proprio la possibilità di comunicare che tu offri un servizio differente e differenziato rispetto ai tuoi concorrenti. Quindi, anche magari ricevere un contatto per delle informazioni ti dà la possibilità di spiegare quello che tu fai o comunque, ecco, comunicare in maniera efficace. Sì, sì, infatti. Invece, per quanto riguarda proprio il tuo percorso all'interno del coaching program, no? Tu hai avuto Enza come tuo coach. Mi racconti un po', questo non lo so neanche io, quindi sarà nuovo, qual è stata la tua esperienza, come è andata proprio il rapporto che hai creato con Enza e se effettivamente ti è servita per tutto quello che è stato il tuo percorso. Allora, a parte, diciamo, oltre le call che adesso poi ci arrivo, c'è proprio un'assistenza se magari, ecco, qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa si può scrivere appunto alla propria coach, nel mio caso Enza, è un supporto molto buono, devo dire, e mi sono trovata molto bene perché lei è molto smart, nel senso che riesce proprio nell'immediatezza a capire, anche se magari, ecco, no, del mio settore giustamente non aveva, non era ottimo. Non siamo esperti. A capire quello che poteva fare al mio caso, funzionare, e diciamo che io sono una persona molto organizzata, quindi mi è piaciuto anche che lei mi dicesse magari adesso, prima della prossima call, strutturati in questa maniera, fai questo modulo, poi ne parliamo se hai dei dubbi, e poi alla prossima call strutturavamo, io se avevo dei dubbi gliele esponevo, lì chiarivamo, e poi, diciamo, andavamo a strutturare il lavoro da lì alla prossima call, con l'assistenza nel mezzo se ne avevo bisogno, quindi no, mi sono trovata bene con lei molto. E a livello appunto di call e a livello proprio di Enza come coach, hai, diciamo, sviluppato un tipo di rapporto con lei, come sono state le nostre, le vostre dinamiche, anche perché credo che all'interno di un percorso non sia solo una scalata, no, però ci sono anche parti che non si vedono, sono un po' brutte, fra virgolette, anche a livello emotivo, cioè soprattutto a livello emotivo, mi viene da dire, come l'hai vissuta da quest'altra parte, tu? Il rapporto con lei? No, come ti dicevo, allora, lei è una persona molto empatica e io anche, l'ho trovata veramente subito in sintonia con lei, quindi appunto, quello che abbastanza secondo me fa la differenza, capire immediatamente la persona che è davanti, no, con l'obiettivo che ha, e quindi mi sono trovata molto bene anche dal punto di vista, diciamo, empatico. Senti, e adesso, piani futuri? Allora, piani futuri, continuare a lavorare con impegno sui social, e diciamo, di idee ne ho molte da mettere in pratica, anche riguardo le video lezioni che ho guardato, ecco, vorrei spendere qualche parola su questo, perché il tuo metodo, cioè, da, diciamo, ci sono moltissimi video da guardare, quindi, accedete a questo, a questo corso, diciamo, se veramente avete voglia di cambiare, di imparare, perché è impegnativo, è super formativo, quindi ci sono moltissimi video da guardare e da cui apprendere. diciamo che non è un corsetto non è una cosa istantanea, bisogna dedicarci il tempo, quindi questo è importante, secondo me, dirlo, e quindi, ecco, quando ho molte idee, avendo visto i corsi, però ovviamente il tempo è quello che è, perché le cose da fare sono tantissime, essendo da sola, poi portandole avanti tutte in una certa maniera, con un certo, insomma, impegno ci vuole il tempo, le andrò a riguardare quando sarà il momento, perché ecco, appunto, sono proprio ricchi e pieni di nozioni, quindi sì. Bene, sono contenta. Quindi, per i prossimi, quindi hai già qualche progetto in mente che andrai a sviluppare, grazie anche a tutto quello che stiamo. E l'ultima call, parlammo con Enza proprio del Black Friday, che è la terza settimana di novembre, dove ci sono quegli sconti pazzeschi e lo vorrei strutturare proprio a livello di caroselli, sì, lancio, esatto, quindi caroselli piuttosto che post e piuttosto che Instagram stories, quindi facendo delle promozioni specifiche e, diciamo, andando a creare ancora più vantaggi per chi li va a prenotare in direct. Ottimo, top, brava, sì. Sì, e poi ho già pubblicato il reel, un reel ultimamente in cui appunto prendendo spunto da te ho detto di rispondere nei commenti diciamo una parolina, quindi guida per esempio e ho preparato una guida gratuita che avevo preparato per i miei clienti che compravano gli occhiali poi l'ho diciamo messa più in forma social e l'ho arricchita e cerco ecco di i followers appunto ed educarli tra virgolette sotto questo punto di vista cioè il fatto che io sono una persona che ti posso dare cioè aiuto sotto quel punto di vista quindi non sono solo una venditrice ti vado proprio senza professionale insomma per aiutarti col dispositivo che vendo o ti venderò forse non ti venderò mai però ecco deve passare proprio questo messaggio i followers devono entrare in questo senso sì anche perché il concetto di venditore ormai non funziona più cioè le persone vogliono sentirsi ascoltate e tutti noi vogliamo sentirci ascoltati quando vendiamo o quando comunque stiamo approcciando ci stiamo approcciando alla vendita in generale quindi è molto importante questo bene Costanza io ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo per questa testimonianza ti auguro veramente un profondo in bocca al lupo per tutto adesso viva il lupo andiamo a prenderci questo Black Friday sold out di tutto e dai noi ci sentiamo presto su questi schermi e per adesso grazie mille per questo video grazie a te ciao 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 Grazie.